Non dà risulta, attenzione Perchè io è uscito dalla barriera, non te lo devo uscire Ma come è la partita? Una partita con me, attaccano i miei e due Ora stanno attaccando, non abbiamo tutto meno equilibrato, noi abbiamo due azioni con l'una, non sono sbagliato Gabriele E una faccio con lo spazio Non mi sembra? Alla, lei i miei, ho detto che ci sono ora? Che c'è un attore? Allora abbiamo con la sua grandeину, ci sono noi che non dà l'infero Ho riuscite della promessa? Ah, è proprio che... Ho riuscite della storica? È bruto adesso, è brutto è un pareciccio ora puoi far sognare attenzione alla punizione vai 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 è giordano il capitale ahahah posso non su un corte? lo primo il suo figlio, con il suo dav Ehi, sono il mio padre, ma perché si andrò a me? Ehi, sono confusato. Ora siamo clave, deve negli stagliare, se non mai basta. Ti fa vedere che se mi interroca, se non guarda di me, se ne andano e se non mi volano. Vai, vai, vai! Vai da la prestagna! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ammoniscilo! 2 2 2 2 3 2 2 3 5 5 6 7 8 10 10 11 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 16 16 grazie 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 vai vai avanti la volta il cicciocorso si stacca il cicciocorso è il secondo cuore eeeh arbitro fai stare calmo il portiere troppo agitato mi pare grazie 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 ora non ci fa manca chiarare dai ragazzi oh il gol devi parlare oh ahahah è pericoloso ieri hai giocato a under 1.5 del catania se sono sbagliato il buio ricordo si si chiedi che è il culo si io ho fatto questo nooo nooo chiamò al petto chiamò al petto alpi al petto al petto al petto dai lenti attento nooo nooo non fate fallo vai mauro vai mauro vai mauro a ma che fa? o che dici? o faccio dire che il cane non è la piscina comunale attenzione grande corso ma come andava? vaiiii aspetta ma tu spiegato che vado a giochi vai in caldo e ciò che sei già dato tu farai essere un tapiscino attenzione attenzione che vuole ora? ma che vuoi? guarda ci ci si più polmone guarda guarda state caldo vero? ah il giorno delle ditte no no ancora no attenzione stavolta già i tuoi prima partita occhio Mauro vai 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 io non so in caso di uniscero tutto ohhh vai Gabri ohhhh ohhhh oooooooooooo ooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooo ooooooooooooo Dusso c'ho fuori mantea numero 6 non sapete manco acqua a un melongiolo c'era l'ha detto un po' E' il microfono, ecco, vada tu e il mio, ecco si c'è un posto si c'è un posto ti puntaci se tira un mimo c'è i colpi e puntaci ma che ci va ho dato potere se segna che sta invasione segna che sta invasione cos'è? sforzo sforzo ecco 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 non è una chiamata a distanza quindi può tirare se non c'è la distanza puoi battere quando vuoi non ci riproviamo ah ma allora diventa l'osso alla vita e tu devi sciarri di sciarra e basta ma da d'amore a Giacobbello hai giocato alberto 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 calma alberto come fanno apposta perchè gli brucia come metto ci un bisco ad voi alberto alla fine alberto 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 a alberto 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 Ehi, vuole dire che chi non lo vede che era il dà che pesava con i picciari, non c'è un altro giocato. Dai, Domi! Dai, Domi! E' attura! Siamo qui, ci dobbiamo fare! SILENZIO! Dove va, dove va? C'è il dolore! C'è il dolore! Adesso il dolore! Sì, vai! Visto! Non puoi fare il salto! Chi sta? Allora, c'è il dolore! Cos'è il dolore? Che è? Sì, stia di vedere poi la voglia. Oh no! E' un dolore! Fa una voce! Ancora un dolore! Vai, che spazio! Non c'è il dolore! Non c'è la cosa! L'hai proprio avvinto! E' giusto! Perché ha fatto il punto? L'hai rotto la schiena! E' giusto! Si è abbassato prima! Sei visto dove l'ha fatto? in San Antonio. Un mister rimettavo fuori! E' giusto! Non c'è davvero! Mette le mani addosso! Forte cemento! C'è già il dolore! Assunto! Guardi l'osso! Vendo e la torta! Grande Foni! Non fare pallo! Vai Doni! Vai Doni! Ok va Vai Domi Attento All'entrata Ma c'è il capitano Lo scassamento di Griglione Eeeh 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 Io attendo sempre la giurale Perchè non fai il colpe Eeeh 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 La pericola è uguale. 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 è uguale. la pericola 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 è uguale. ilically è uguale. bravoooo Ma secondo me la fulgura che tiene che dire che la lieve della mezza sono io fulgura Ma come fanno io servito? Vabbè questo è un bonus, è un primo in classifica Ma come fanno io servito? Primo in classifica Vabbè con l'aiuto degli albiti pure no No, 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 no No, 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 no Vabbè, vabbè Mauro Non ci falliamo, non ci falliamo Vabbè, vabbè Mauro Tacciso Mauro Bravo Vabbè, vabbè Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.